Migliorare l'accessibilità al parco giochi di Piazza Felice Orsi attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e rendere più funzionale l'area che ogni giorno ospita decine di bambini. E' questo l'obiettivo del progetto presentato dall'amministrazione comunale di Porcari che verrà realizzato grazie a un finanziamento regionale. Dopo lo smontaggio dei giochi esistenti verrà installata una rampa di accesso per disabili. Tutta l'area sarà dotata di una pavimentazione antitrauma elastica in gomma colata. Infine i giochi saranno rimontati al centro in modo da lasciare liberi spazi dove più avanti troveranno collocazione tavoli e sedie per bambini. L'intervento ci permetterà di recuperare tutta l'area dove ora ci sono i giochi, di fare una pavimentazione antitrauma e la cosa che più mi rende felice è che in tutto questo progetto elimineremo anche lo scalino presenta l'ingresso e quindi in sostanza elimineremo una barriera architettonica. Questo significa rendere davvero accessibile a tutti quella zona, quel parco giochi, quindi bambini, passeggini, carrozzelle, persone che magari hanno le stampelle. Quindi insomma mi sembra un intervento che poi proprio vada a migliorare la fruibilità complessa di quell'area. I tempi più o meno? I tempi si parla dell'estate, quindi abbiamo avuto da poco la risposta positiva, abbiamo ottenuto il finanziamento per l'80% di quello che era l'importo e quindi ora procederemo con tutte le pratiche varie, con l'affidamento dei lavori, però ecco pensiamo che per l'estate insomma dovremmo in qualche modo riuscire a realizzare l'intervento. Grazie.